L'Associazione Forense ANF, sindacato degli avvocati del Tribunale di Foggia, farà tappa a Lucera il prossimo 23 febbraio con un convegno che si terrà presso la Sala Conveni della Biblioteca Comunale a partire dalle 16, dal titolo A quattro anni dalla riforma della geografia giudiziaria, la percezione della legalità sulla collettività dopo la perdita dei presidi giudiziari, se ne discute a Lucera. Tra i relatori ci saranno l'avvocato Stefano Pio Foglia, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, il dottor Antonio Tozziani, dirigente amministrativo del Tribunale di Foggia, l'avvocato Raffaele Preziuso, avvocato del Foro di Foggia e presidente del Comitato Difesa della Legalità di Capitanata. Modererà gli incontri l'avvocato Gianfranco Di Noia, presidente ANF Foggia, sindacato avvocati del Tribunale di Foggia. Qual è la percezione della legalità da parte della collettività con la soppressione di una struttura giudiziaria fondamentale per tutto il territorio come quella di Lucera? Collettività costretta in tal modo assieme agli avvocati a gravosi spostamenti. Il dialogo con i presenti sarà anche per questo convegno fondamentale per la ANF di Foggia, che vuole essere concreta portavoce delle istanze della categoria forense.